Eccoci qua! Oggi vedremo insieme la prima maglia della Roma per la stagione 22-23, cioè la prossima, in edizione FAN. Tante le novità a partire dallo sfondo della divisa formato da due toni di rosso e dove troviamo una trama reticolare composta dallo storico stemma tondo con la cronismo ASR, usato per la prima volta negli anni 30 e successivamente negli anni 50. Il colletto è alla coreana, rosso scuro con bordo giallo, una combinazione cromatica che ritroviamo anche sul bordo delle maniche. Il retro della divisa è personalizzato con la scritta FIGLI DI ROMA, la cui O è formata dallo stemma con il lupetto. Un richiamo a un celebre striscione della curva sud e un omaggio al legame tra la città e la squadra che ne porta il nome in tutto il mondo. Questa maglia in poliestere è dotata della tecnologia U-Balance Dry. Siete qua? Cosa ne pensate? Secondo me è una bellissima maglia. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Peraltro la nuova maglia di Dybala, quindi voglio dire un motivo in più per acquistarla. Trovate qui in alto il costo, come vedete bassissimo, che peraltro include anche le spese di spedizione e vi ricordo che in descrizione trovate un link per poter ottenere un coupon da 5 dollari quindi il costo diminuisce ulteriormente. La maglia è fatta molto bene, perfetta in ogni dettaglio e vi invito veramente a dare la possibilità a questo sito, mettete alla prova questo sito. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, come al solito vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale per essere aggiornati su prossime recensioni. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, è la versione FAN.